le fonti agora fiscale eccoci pronti per una nuova puntata ben trovati naturalmente a tutti voi sulle fonti tv e oggi parleremo in generale concetto macro di fare impresa cosa significa fare imprese intanto leggiamo anche il titolo di questa puntata analizziamolo con le parole che abbiamo utilizzato per arrivare poi al percorso che vi racconteremo non solo fatturato questo è il primo aspetto che andremo a sviscerare un'azienda in salute deve generare redditività e questo è proprio un vero percorso che l'imprenditore deve fare per garantire il benessere personale di chi collabora con lui dei suoi dipendenti e quindi in generale dell'impresa per questo che l'argomento macro è sempre quello di fare impresa non sono da sola oggi al desk con me maria bonsanto della redazione ciao manuela grazie grazie naturalmente a tutto il nostro pubblico e al nostro ospite con cui parleremo proprio di come raggiungere la redditività e come intraprendere quindi al meglio questo percorso per innovarsi e scoprirsi nuova tipologia di imprenditore do il benvenuto a francesco cardone grazie grazie ben trovato ben trovato dottor cardone parto a gammatesa da una sua pubblicazione anche perché ho avuto il piacere di leggerla nel 2018 usciva impresa vincente lei in particolar modo si soffermava su tre pilastri che sono educa cresci e proteggi il va de mecum dell'impresa vincente oggi stiamo parlando non solo fatturato ma redditività quindi naturalmente ci concentriamo sul secondo pilastro quello della crescita cosa vuol dire far crescere un'impresa significa focalizzarsi non sul fatturato tanto che io dico che il fatturato è vanità è chiaro che ha fatturato zero l'azienda non potrà mai avere redditività però focalizzarsi sul fatturato sul volume delle vendite non è quello che interessa un imprenditore vincente l'imprenditore vincente è colui che ha un'azienda che sia redditiva che porti redditività perché portare redditività come giustamente stava dicendo prima manuela nell'introduzione porta vantaggio porta vantaggio alla famiglia dell'imprenditore sotto forma della distribuzione degli utili ai collaboratori un ambiente più sereno e questo è importante che all'interno del team di lavoro ci sia un ambiente sereno anche premiando i collaboratori con dei premi sulla redditività dell'azienda poi si può reinvestire nell'azienda però per migliorare l'efficienza di quell'azienda e poi altra cosa fondamentale è quello poi di accantonare e permettere anche di contribuire di dare agli altri contribuire dare agli altri però volevo se mi consentite se mi consente fare un passo indietro rispetto ai tre aspetti che abbiamo ricordato educa cresci proteggi un po appunto il va de me con come l'ha definito anche maria dell'imprenditore perché voglio fare un passo indietro perché si parte poi da quella che è l'educazione cioè cresci e d'accordo no e l'abbiamo appena spiegato poi comunque ci torniamo è però la formazione ecco altra parola che spesso in italia sembra fare un po paura o sembra essere sempre lasciata ai margini le chiedo perché se è così intanto perché invece quanto è importante perché parte tutto da lì come leggiamo perché io penso che l'imprenditore contemporaneo deve essere un imprenditore che abbia la cultura imprenditoriale oggi bisogna avere conoscenza se noi pensiamo a quante informazioni oggi abbiamo a disposizione e quante cose noi andiamo a ricercare ogni volta quindi oggi l'imprenditore deve essere un imprenditore che si forma continuamente se mi permettete non soltanto da un punto di vista tecnico quindi la tecnica del suo lavoro ma anche motivazionale in questo periodo per esempio anche nel mio nuovo libro tu sei un eroe io parlo di leadership perché oggi l'imprenditore deve essere un leader del suo team bisogna dare ai propri collaboratori i giusti obiettivi guardi io dico che un'impresa vincente è l'impresa quindi si arriva al successo di un'impresa quando noi facciamo raggiungere le mete dei nostri collaboratori ogni collaboratore all'interno di un gruppo di un team deve avere delle mete il compito del leader è quello di fare in modo che i propri collaboratori raggiungono quelle mete al raggiungimento delle mete dei singoli collaboratori del team l'azienda successo è esattamente il contrario di quello che pensiamo che debba succedere l'azienda successo poi di conseguenza i collaboratori non è esattamente così è un paradigma che dobbiamo cambiare l'imprenditore deve essere un vero leader un condottiero della sua azienda e nel libro tu sei un eroe quando parlo del viaggio dell'eroe l'eroe è quello che difende i suoi uomini difende il suo castello questo dice la mitologia non la leggenda e questo deve essere l'imprenditore è un rapporto un po a doppia valenza no anche diciamo il concetto di team ecco volevo arrivare lì quanto è presente nella mente di tutti noi per noi intendo dire italiano a livello culturale quindi di conseguenza negli imprenditori ma anche nei collaboratori perché poi se pensiamo al team come dire ciascuno ha la sua parte quindi ciascuno è un piccolo leader no mi verrebbe dire poi chiaramente c'è il capitano che guida la squadra ma quanto è consolidato questo termine questo concetto di team io penso che sia un gap culturale che dobbiamo vincere no nel senso che non c'è una cultura italiana dell'imprenditorialità sulla leadership la cultura c'è sul padre padrone dell'azienda no questo è un po la cultura dei nostri nonni e dei nostri genitori invece io penso che il vero condottiero oggi porta il team quindi bisogna trasferire all'interno del team quei valori fondamentali attività di team building attività motivazionali a parlare di contribuzione di dare agli altri anche con i collaboratori questo è fondamentale per un'impresa che vuole diventare vincente per un'impresa che vuole portare valore io penso che questo sia il grande enigma dei nostri giorni no guardi io penso che dobbiamo cambiare io dico sempre bisogna fare degli switch e gli switch bisogna fare su tante cose sulla redditività quindi focalizzarsi alla redditività non al fatturato lavorare molto sulla crescita dei propri componenti un fatto culturale se tu sei bravo a portare la cultura della leadership all'interno del tuo team questo diventa un valore fondamentale e quindi è su questo che l'imprenditore deve focalizzare la sua grande attenzione mi permetto di fare una digressione un paragone forse un po ardito ma probabilmente un po la logica del buon padre di famiglia no il buon padre di famiglia non guarda soltanto quelli che sono gli ingressi e soldi che porta ma anche a come questi devono essere amministrati quelli che sono i costi perché qual è l'obiettivo far stare al meglio la propria famiglia raggiungere una forma di benessere nello stesso modo mi sembra di cogliere dalle sue parole l'obiettivo dell'imprenditore non deve essere soltanto quello di generare ricchezza fatturato ma di generare redditività che vuol dire anche benessere appunto ma è questo che dobbiamo perché l'impresa è uno strumento ok per la ricchezza di tutto gli stakeholder che lavorano intorno all'azienda e quindi noi dobbiamo lavorare su un ambiente di lavoro che sia sereno l'ambiente di lavoro sereno sia quando le cose vanno bene se i nostri collaboratori avvertono che l'azienda sta andando nella giusta direzione guardi veniamo da due anni difficili no e c'è un vecchio detto dei marinai che dice che tutti sono bravi a condurre un'imbarcazione quando il mare è calmo invece io penso che i veri imprenditori sono usciti in questo periodo di mare in tempesta e l'imprenditore è lì con i suoi uomini a far andare questa nave nel mondo in tempesta e quindi oggi l'imprenditore deve essere bravo su questo e deve essere colui che davanti a tutti con i suoi collaboratori è lì per dare anche ai collaboratori quella sicurezza lavorativa i collaboratori l'avvertono se il momento è positivo o non è positivo Prima di darti la parola Manuela mi è piaciuto molto il rimando agli stakeholder perché noi siamo abituati soprattutto da un punto di vista finanziario a parlare tanto di shareholders delle aziende quotate sembra che tutto rimani soltanto a quelli che sono poi dei risultati economici a volte ci si dimentica che invece l'italia è fatta soprattutto da piccole e medie imprese non quotate dove la parte invece portante pilastri sono tutti gli stakeholder tutti quelli che ruotano intorno quindi per guardare gli stakeholder una volta raggiunta questa crescita cosa bisogna fare raggiungiamo la redditività e poi raggiungendo la redditività creiamo benessere come dicevamo prima quindi distribuire il dividendo ai ai soci che andranno verso le famiglie con un lavoro sugli intoccabili sulla tutela del patrimonio che poi se volete in qualche altra puntata ne parliamo rimunerare i collaboratori io penso che le aziende non devono essere più uno stipendificio dove si baratta il tempo dei collaboratori con i soldi attenzione non sto dicendo che bisogna lavorare senza stipendi no sto dicendo che bisogna dare di più bisogna fare in modo che quando un'azienda diventa performante al di là dello stipendio bisogna dare ai collaboratori delle premialità nelle grandi aziende si parla di stock option si parla di usufrutti sulle azioni o sulle 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 quote delle aziende questo per far sentire i collaboratori parte integrante dell'azienda altro elemento fondamentale è quello di l'efficienza come dicevo prima e poi anche quello del contribuire una parte delle nostre redditività deve essere dato in attività benefiche in attività di valore questa frase del conto corrente universale per me è quasi un intercalare avendo fatto io lo scout per tanti anni per me è fondamentale alimentare il mio conto corrente universale con il tempo che dedico attività benefiche con investimenti che faccio in donazione vedete ho detto investimenti perché per me donare è un investimento è un investimento sul mio conto corrente universale che non significa che domani guadagnerò dei soldi ma che domani sarò più sereno sarò più felice sarò più tranquillo questa è un'economia dove stiamo ritornando molto all'importanza dei valori e all'etica all'interno dei nostri rapporti quindi non solo soldi io mi sono appuntata un po di cose però che secondo me possono essere un po collegate per approfondire dei concetti che sono già emersi intanto appunto il tema dei soldi anche perché insomma noi diamo il nostro tempo per i soldi no quindi questo tempo deve essere assolutamente amministrato bene noi per primi dobbiamo sapere come amministrarlo e questo mi fa tornare anche un po al tema della protezione c'è il terzo punto abbiamo detto educa cresci proteggi perché l'imprenditore deve far sì che venga protetto il tempo della persona che lavora perché questa persona possa dedicarsi in modo consono alla z per raggiungere poi la redditività no quindi questo è tutto collegato la valorizzazione dei talenti che secondo me in italia è ancora un po un concetto che arranca e non tutti proprio per la cultura di cui di cui parlavamo e quindi domanda finale ma insomma poi le considerazioni sono queste nell'ecosistema generale della produttività no e del nostro sistema quanto una un'impresa un imprenditore può fare per raggiungere questi obiettivi c'è anche per far sì che la mentalità cambi e che tutti possano andare verso come dire a contribuire a costruire un paese che possa essere sempre più attrattivo ecco dare conoscenza dare cultura ai nostri collaboratori creare delle opportunità di crescita per i nostri collaboratori che non sia soltanto quella di natura economica ma anche di natura motivazionale attenzione ad una cosa però quando un collaboratore all'interno di un'azienda cresce troppo sotto il profilo professionale ed economico dobbiamo stare attenti al suo equilibrio nella vita privata perché se quel collaboratore cresce troppo e nella vita privata non cresce noi creiamo un disequilibrio importante quindi dobbiamo essere attenti con dei one to one cosa che io faccio spesso all'interno della mia azienda a fare in modo che sfera professionale e sfera privata di per quel collaboratore vada nella giusta direzione chiaro che noi non possiamo intervenire nella sfera privata però dobbiamo parlare col collaboratore e capire diceva qualcuno anche lo stesso tony robbins uno dei più grandi motivatori al mondo che noi siamo la media delle cinque persone che frequentiamo di più e qui dobbiamo stare a livello di inconscio e quindi dobbiamo stare attenti a questo disequilibrio nella vita privata quindi l'imprenditore non deve fare lo psicologo ci mancherebbe deve fare l'imprenditore però deve dialogare con i suoi collaboratori e soprattutto da un po di vista culturale e capire dove non è questione esatto di fare psicologia spiccia ma di conoscere i collaboratori e le persone con cui si lavora se non si conoscono è impossibile anche riuscire a appunto attirare il valore e riconoscere dove sta il talento credo che non si possano insomma scindere le due cose ancora una volta guardare poi al benessere complessivo delle persone delle aziende quindi tutto torna in questa visione a 360 gradi che guarda non soltanto l'economics ok questo è un po la mia mentalità no la mentre lei commercialista divergente a volte quando si parla con un commercialista pensa che si pensa al fisco io sono uno che di fisco non parla mai e parlo di valori perché io penso che il valore all'interno dell'azienda sia un elemento di straordinaria importanza ottimo beh puntata molto interessante che dà una prospettiva diversa appunto non solo rincorrere no il soldo e il sì la produttività sì ma analizzando tanti tanti aspetti quindi grazie insomma poi ricordiamo sempre perché poi questo è un po un manuale che serve proprio ad approfondire questi questi temi e io che lo sto leggendo vale per l'imprenditore per le imprese ma anche a livello personale visto che poi abbiamo parlato anche dell'aspetto più personale non solo professionale grazie al dottor francesco cardone naturalmente grazie a maria bonsanto grazie grazie a manuela e e grazie chiaramente al nostro pubblico per essere stato con noi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti